Questo incontro è durato moltissimo e in realtà noi siamo d'accordo nel metodo e nel merito di quello che è stato detto in questa illustrazione dei nuovi decreti. Non abbiamo assolutamente voglia di fare strumentalizzazioni politiche come alcune sigle sindacali hanno fatto, perché una cosa è criticare le scelte del governo e una cosa è essere contro sempre e comunque. Noi abbiamo criticato più volte, lo facciamo ancora, l'utilizzo dei bonus, ma ci rendiamo conto che col nuovo patto di stabilità che ha ristretto molto i margini di manovra e col fatto che le risorse sono sempre quelle che conosciamo, sono poche, usare i bonus è una specie di tutela da parte del governo affinché non ci si comprometta per le spese per un periodo molto lungo. Però rendiamoci conto che questi bonus sono stati rinnovati tutti, per cui in realtà il metodo è stato mantenuto e questo governo è uno dei pochi che fa riunioni continue e periodiche su questi temi per quello che conosco io.